Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi porto un argomento che si trova a cavallo tra il mondo dello studio recording e il mondo del live, cioè l'utilizzo delle stagebox o ciabatte da palco oppure vengono chiamate anche snake serpentoni in base ovviamente al nome che preferite. Allora che cosa sono? Sono appunto dei dispositivi che vi permettono di collegare più microfoni attraverso un unico cavo. Queste, adesso vi faccio vedere appunto di che cosa stiamo parlando, vengono sfruttate appunto come vi dicevo sia nell'ambito live che nell'ambito dello studio. Allora innanzitutto dalla prima parte, adesso quella che ho io è lunga 30 metri quindi non riesco a srotolarla tutta, sennò non ci stiamo nell'inquadratura. Allora come potete vedere è una scatola di metallo, io ho questa qua di questo modello de snake, sono 16 canali in ingresso e 16 canali in uscita. Allora che cosa servono? Ovviamente questi serpentoni hanno una lunghezza in base alle vostre esigenze cioè ovvero se dovete collegare due stanze dello studio che sono adiacenti magari vi va bene una stagebox di 10 metri con un cavo di 10 metri. Se dovete fare un live quindi ad esempio dal mixer fino al palco magari potreste avere bisogno di 30 50 metri in base a quello che dovete fare. Allora innanzitutto la prima parte della stagebox è appunto chiamata la ciabatta da palco, cioè la parte dove ci sono tutti connettori, spero che riusciate a vedere bene. Questi sono connettori XLR a cui verranno poi collegati i vari microfoni, in questo caso ce ne sono 16. Qua in alto ci sono gli XLR maschio cioè le uscite verso quello che vi serve. Allora innanzitutto di solito avete left e right delle due casse per l'impianto, quindi si parla di live in questo caso, ci sono le due uscite più due ausiliari per le due spie monitor spia per il cantante e il batterista. Qua invece sotto ci sono gli ingressi quindi 16 canali di ingresso che possono essere dalla batteria a basso voci si arriva presto a 16 canali in totale e quattro uscite. Allora questa è molto comoda perché arrivate al palco oppure nel caso in cui la utilizziate dentro uno studio arrivate nella seconda stanza con un solo cavo e avete la possibilità di collegare tutti gli strumenti in un solo punto per mantenere un po' di ordine. Tutto questo poi va lungo questo cavo, cavone, che sarà grosso in base a quanti canali dovete trasportare, è anche abbastanza pesante perché è una scatola di metallo in questo caso, non esiste solamente di questo formato ovviamente. Dall'altra parte invece troviamo tutti i connettori, quindi abbiamo, vengono ovviamente vengono applicate delle targhette per farvi capire, ad esempio questo M1 è l'uscita verso una delle due casse per l'impianto, ad esempio in questo qua il 2 è uno degli input, questo qua ad esempio riferito agli input andrà collegato agli input del mixer oppure della vostra scheda audio se siete in studio. In questo caso i jack che sono in versione bilanciata vengono utilizzati appunto per collegare le due ausiliari del mixer da palco o mixer diciamo del front of house, cioè quello che sta davanti al palco, oppure le potete utilizzare sempre per la vostra scheda audio o per gli ascolti in cuffia dei musicisti. Ora come vedete sono tanti connettori in base a quanti canali può trasportare la nostra stage box? In questo caso si parla di segnale analogico, quindi sono le classiche stage box che esistono da tantissimi anni che trasportano semplicemente segnale di tipo microfonico o livello di linea. Oggigiorno poi ci sono tutti i sistemi più moderni che trasportano segnale digitale attraverso appunto il cavo cat e però questo sicuramente poi diventa un sistema più complesso, magari più costoso per classici utilizzi, soprattutto per dimensioni molto corte, diciamo che ancora questo questo utilizzo delle stage box classiche è sicuramente utilizzabili, per grandi distanze è molto preferibile utilizzare un sistema digitale. Spero di avervi dato un'idea di che cosa sia la stage box perché molte volte mi avete chiesto come faccio a collegare magari più microfoni verso la stanza dove vado a registrare, non posso portare otto cavi in un'altra stanza, bene la stage box è quello che vi serve, nel senso che semplificate sicuramente la vita. Spero vi sia stato tutto utile, se vi va iscrivetevi al canale. Ciao!